Meno male che tu mi prendi. Meno male come sono in la moto che si è fermato, la faccia picchia il casco. Ma no, ma io con te ero costito che andavo. Aiaiaiaiai, è caduto sul Montesa, anzi su due Montesa. E' quel piccolo che ha parcheggiato lì. Meno male perché sennò andava giù fino in fondo. Ma ti ha picchiato la faccia lì, non andavo via. Andavi via, vai via, vai per piacere. Hai preso? Certo. Io non l'ho preso io. Qua io meno allontanato ero compito che andava. Hai visto? Due Montese in un corpo. Oh, tira via la cazzo di moto. Ma no, ma pesa, cazzo, ma stai scherzando? E mica come la tua, quella lì pesa, c'è il parafango bianco, è di ferro, eh? Di ghisa. Di ghisa. E' di ghisa verniciato di bianco. Spostala Guido, spostala, spostala. Provala, vai. Ma va, ma è arrivato il torto. Ma fra tutti, eh? Non andiamo avanti. Fra tutti. Piove. Io me ne vado. Stai cominciando a bollettare. È normale. Fate così bene le prime volte. Ottimo, eh. È arrivato corto ancora, eh? Sì, è fatto. È arrivato corto ancora, eh? Perché hai fatto perdagli, poi hai chiuso. Io vado. Io vado. Io vado. Ma è quello là che ha spostato il picoso che dà adesso fastidio. Stendiamolo via quel sasso. Ah, ecco lì, eh. Gli hai messo in mezzo quel sasso là. Eh, dai, lì l'hai messo in mezzo quel sasso lì, eh. È per quello che non sei venuto su. Ma qua l'ha sparato gli aspanti. Ma perché piove, per quello? Stendiamolo via, Zambe, è pericoloso. Sping.